Una targhetta in memoria di Gregori Libardi, il manduriano affetto di talassemia morto a soli 39 anni lo scorso luglio. Così il centro talassemia all'ospedale Giannuzzi di Manduria ha voluto ringraziare la famiglia Libardi che ha deciso di donare all'associazione messapica tutti i risparmi del 39enne. È dorata ed è stata fissa nel corridoio del reparto dove Gregori, talassemico dalla nascita, ha trascorso tantissime giornate della sua vita. Dopo la sua morte abbiamo deciso di aprire il salvadanaio di Gregori e abbiamo trovato un bel gruzzoletto, ha raccontato il fratello Leo, quando lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Non abbiamo avuto dubbi, soldi dovevano essere donati al centro di talassemia che si è sempre preso cura di Gregori. Ha raccontato e emozionato il fratello che ha condiviso il toccante gesto sul social Facebook. Abbiamo chiesto al centro di cosa avessero bisogno e ci hanno risposto un frigorifero, così ne abbiamo acquistato uno, ha detto Leo, molto emozionato al telefono, spiegando la scelta della condivisione sul social della donazione. Gregori ha sempre avuto molta difficoltà nel trovare sacche di sangue. Ci tengo a sensibilizzare sulla donazione. Ha esortato l'uomo che ringrazia ancora una volta il centro per aver ricordato il fratello, incidendo sulla targa il suo motto di vita. L'importante non è colpire, ma resistere ai colpi. Frase che ora potrà essere d'ispirazione per tutti i pazienti del centro e per chi la leggerà.